Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del Tg6. Pescara piange la scomparsa dell'ex sindaco Carlo Pace, morto nella notte in ospedale dopo che ieri era rimasto vittima di un incidente in via Silvio Pellico. Infatti l'ex sindaco era stato investito da un'auto. Il cordoglio unanime è arrivato dal mondo politico. In particolare andiamo ad ascoltare nel prossimo servizio realizzato da Paolo Renzetti il ricordo commosso di Carlo Masci, assessore per nove anni nelle due giunte guidate da Carlo Pace. Pescara piange l'ex sindaco Carlo Pace, 81 anni compiuti ad ottobre che ha governato il capoluogo adriatico ininterrottamente dal 1994 al 2003 nel primo caso dopo essersi imposto su Mario Collevecchio e poi nel secondo caso dopo aver avuto la meglio su Gianni Melilla. È stato anche coordinatore della commissione sismica mista della regione Marche-CNR e componente del comitato tecnico amministrativo del provveditorato alle opere pubbliche dell'Aquila. Per quanto riguarda la politica è stata forte in passato ma sempre leale la sua rivalità con Nino Sospiri all'epoca presidente del Consiglio Comunale. Nell'ultimo periodo e nell'ultima campagna elettorale ha appoggiato la candidatura a sindaco di Guerino Testa. Carlo Masci, un ricordo dell'ex sindaco Carlo Pace, lei è stato assessore nelle due giunte dell'ex sindaco di Pescara, un po' il suo braccio destro possiamo dire. Sono sconvolto, la notizia è tragica perché oltre a essere stato assessore con lui per nove anni siamo stati legatissimi, lo considero un padre politico, un maestro di vita e un carissimo amico. Ieri ho saputo la notizia dell'incidente, ho chiamato la famiglia, mi avevano anche tranquillizzato nel senso che mi avevano detto che c'erano problemi, l'incidente era stato grave ma lui non correva pericoli e quindi mi ero anche tranquillizzato. Stamattina invece ho avuto questa notizia incredibile, non ci posso ancora credere, è veramente un dramma. È stato un grandissimo sindaco, un sindaco che ha amato la sua città, un grande innovatore, con lui è cresciuta una classe politica nuova, è stato onesto, ha proprio incarnato l'onestà e la serietà nella politica. Pescara perde una persona di grandissimo livello, di grande spessore, è un uomo che sarà ricordato da tutti per la sua serietà e la sua correttezza. Un uomo politico molto considerato, apprezzato anche dal centro-sinistra, questo non accade sempre? Assolutamente sì, perché è stata una persona onesta, non è mai stato un politico nel vero senso del termine, della parola. È stata una persona che si è messa a disposizione della collettività e lo ha fatto in una maniera bellissima. Pescara con lui è rinata, ha avuto un grande sviluppo, tante novità, lui amava le novità, era una persona apertissima, con lui ho ricordi incredibili, momenti bellissimi di vita che se rimarranno scolpiti nella mia mente, è una grande perdita per la città anche come esempio di vita. E sulla morte di Pace c'è anche il messaggio di cordoglio del presidente della regione D'Alfonso. La scomparsa di Carlo Pace mi addolora profondamente, ho sempre avuto con lui un rapporto sincero e collaborativo. I suoi esperti suggerimenti non mancavano mai in tema di infrastrutture, soprattutto se si parlava del porto di Pescara e dell'aeroporto d'Abruzzo. Questo quanto scritto dal presidente della regione, Luciano D'Alfonso. Invece adesso cambiamo argomento, ci occupiamo del decreto terremoto. Lo facciamo con una notizia che riguarda proprio il decreto. Le parole del premier Gentiloni nel decreto che faremo a metà aprile inseriremo un fondo per la ricostruzione che sarà molto rilevante. Oltre un miliardo all'anno per i prossimi tre anni per la ricostruzione delle aree colpite dal terremoto. Questo quanto detto dal premier Paolo Gentiloni al termine della riunione a Palazzo Chigi con i presidenti delle regioni colpite dal terremoto. E ci sono anche le polemiche sollevate dall'opposizione e dal centrodestra proprio sul decreto terremoto. Qualche luce, troppe ombre e questo sostiene il parlamentare abruzzese Fabrizio Di Stefano. Sentiamolo. Abbiamo visto due decreti diversi noi e il presidente D'Alfonso. Già quando uscì dal governo D'Alfonso si dichiarò estremamente soddisfatto perché tutto ciò che aveva chiesto era stato recepito. Poi il decreto è arrivato in commissione e quindi in aula e in commissione è stato inserito il cratere che non c'era anche se non c'è soddisfatto per come è stato fatto. È stata inserita l'equiparazione sul nostro emendamento dei danni da maltempo nel cratere equiparati ai danni del terremoto, in particolare al mondo Lefrane anche se è rimasto fuori tutto quello che è fuori cratere. È stato inserito il danno indiretto anche se con solo 22 milioni di euro per quattro regioni mi sembra davvero poco. Tutto il danno meteorologico non trova risposta. Se oggi i sindaci di Teramo, Ascoli, Macerata e Spoleto quindi di centrodestra e di centrosinistra dicono che i comuni sono stati lasciati abbandonati e che rischiano il dissesto evidentemente dentro questo decreto non c'è nulla per le amministrazioni locali. Se il cratere è stato ampliato ma sono rimasti fuori comuni come Penne, come Catignano come Penna Sant'Andrea, come Basciano significa che qualcosa non è andato bene. Se si è avuto almeno la deroga al ridimensionamento dell'ospedale di Popoli anche se sottoposto al tavolo di monitoraggio quindi ancora con un grande punto interrogativo e viceversa per Penne non si è fatto nulla si vede che qualcosa non è andato bene. Francamente un decreto che non ci piace. Proseguiamo con la pagina politica e ci spostiamo nel comune di Teramo quarto rimpasto per la giunta di Maurizio Brucchi il sindaco a breve ufficializzerà i nuovi assessori e le rispettive deleghe entra in giunta Alfonso Di Sabatino Martina che si occuperà della ricostruzione che per mesi aveva chiesto le dimissioni del primo cittadino di Teramo il servizio è di Tania Bonnici Castelli quarto rimpasto della giunta Brucchi ormai è cosa fatta o quasi all'istruzione entra Caterina Provisiero in sostituzione dell'assessore dimissionario Francesca Lucantoni e poi la grande novità anche il riottoso Alfonso Di Sabatino Martina entrerà nell'esecutivo con delega alla ricostruzione dopo mesi di critiche feroci all'amministrazione Brucchi Di Sabatino cambia idea ma lo fa per una causa nobile quella di dare il proprio contributo a ricostruire una Teramo a pezzi dopo il terremoto Il terremoto ha fatto cambiare idea a Dodo Di Sabatino che entra così in giunta? Sì, evidentemente detta così è singolare ma anche restituisce bene quello che è accaduto gli eventi sismici di questo periodo e le complessità che hanno comportato hanno ovviamente obbligato la nostra ritrosia a mutare idee ci hanno obbligato a assumere una scelta diversa che sia una scelta di responsabilità una scelta difficile che ha ovviamente come tutte le scelte difficili delle grandi complessità ma che sentiamo di assumere per un grande senso di responsabilità e per il fatto che riteniamo di giocare o meglio che quando la lotta si complichi è giusto che anche le persone che hanno un minimo ancora da dare scendano in campo quindi una delega alla ricostruzione dovrebbe essere questa almeno a quello che leggo anche dalle vostre indiscrezioni sicuramente sarà immagino che sia una delega di questo tenore complessa difficile da gestire con una serie di questioni che ovviamente non vi sfuggono attengono sia alla pianificazione strategica anche alle scelte importanti da compiere sulle scuole sulla città sul patrimonio pubblico su operazioni di investimento privato sull'attrazione di capitali è ovviamente una delega che presuppone un impegno full time che presuppone un atteggiamento di grande disponibilità non è la delega del sottoscritto questa è la delega della città questo ci tengo a dirlo perché su questa cosa dobbiamo lavorare tutti e mi auguro che anche questa disponibilità venga raccolta anche dall'opposizione perché ripeto questa città deve rialzarsi lo deve fare nel miglior modo possibile nel minor tempo possibile lo deve fare con la schiena dritta con grande dignità Voltiamo pagina ora consumi in calo in Abruzzo questo quanto indica un'indagine del Cresa che spiega però come sia in atto una lieve ripresa sentiamo il servizio Oggi c'è questo convegno a Chieti a cura del Cresa per parlare delle famiglie abruzzesi di come vivono oggi le famiglie abruzzese soprattutto dei loro consumi qual è la situazione e cosa è emerso da questa indagine? I nostri dati si riferiscono alla precedente rilevazione di cinque anni fa in questi cinque anni i consumi di Abruzzo sono diminuiti di oltre il 10% una quota che è decisamente importante però rappresenta la crisi che stiamo vivendo una crisi che colpisce tutte le famiglie e che ha portato ad una diminuzione tra l'altro di consumi in maniera ovviamente anche articolata nel senso che il consumo alimentare rimane sostanzialmente stabile cosa estremamente interessante rimane stabile il consumo di istruzione quindi c'è una volontà di futuro perché si investe sull'istruzione sui giovani scende il consumo dell'elettronica e bene il consumo in termini più generali una discesa significativamente inferiore a quella nazionale quindi diciamo una regione in crisi e questo purtroppo ne fa la fotografia noi con i dati congiunturali abbiamo verificato che negli ultimi trimestri c'è stata una crescita della produzione di valore del prodotto interno regionale è una crescita è un'uscita della crisi che è ancora a macchia di leopardo nel senso che sono uscite la crisi le grandi imprese una parte il mondo delle piccole imprese in difficoltà sono le medie imprese il mondo dell'edilizia non riesce a riprendersi nonostante la ricostruzione aquilana ed ora abbiamo la pagina della cronaca è decenuto nella notte per improvvise complicazioni all'ospedale civile di Pescara l'agricoltore 52enne di origine albanese che sabato scorso nella tarda mattinata era rimasto gravemente ferito in un incidente agricolo verificato si incontrà da Solvigno di Popoli in provincia di Pescara l'uomo mentre stava svolgendo dei lavori su un terreno era finito improvvisamente incastrato con gli arti inferiori nella moto zappa subito soccorso dai sanitari del 118 era stato trasportato in eleambulanza all'ospedale di Pescara in codice rosso innottata il peggioramento delle condizioni e poi il decesso sulle cause di quanto accaduto indagano i carabinieri della compagnia di Popoli proseguiamo con un'altra notizia due anni dall'apertura dell'inchiesta sul fallimento Sogesa la società che gestiva il servizio di raccolta e smaltimento per conto del CIRSU e a quasi un anno dall'archiviazione per gli ex presidenti CIRSU Luciano D'Amico e Lunella Cerconi la procura ha firmato l'avviso di conclusione delle indagini contestando l'accusa di bancarotta ad otto persone fraudolenta patrimoniale per i tre componenti dell'allora CDA di CIRSU e Sogesa Angelo Matteo Diego De Carolis e Andrea Ziruolo e i due consulenti Meri Pistillo e Lorenzo Gianmattei è preferenziale nei confronti dell'ex presidente del CDA di Sogesa Gabriele Di Pietro dell'ex amministratore delegato di Sogesa Giovanni Marchetti e dell'allora presidente del CDA e amministratore delegato di Deco Paolo Tracanna secondo l'accusa dopo l'acquisizione da parte di CIRSU anche delle quote di AIA in Sogesa a fine 2011 con la società diventata interamente pubblica e con due CDA a quel punto coincidenti i vertici del CIRSU avrebbero occultato la maggioranza dei 3 milioni di crediti vantati da Sogesa nei confronti del consorzio andiamo avanti con il nostro telegiornale l'ASL di Teramo e la casa circondariale di Castroni hanno firmato questa mattina un accordo per disciplinare le procedure di prevenzione dei suicidi in carcere nell'ultimo quinquennio nel carcere di Castronio che ospita circa 350 detenuti si sono verificati 5 suicidi e diversi tentati suicidi e allora andiamo a vedere insieme il servizio dal 2012 ad oggi all'interno del carcere di Castronio a Teramo si sono verificati 5 casi di suicidio e diversi tentati suicidi questi ultimi fortunatamente sventati dalle guardie penitenziarie è importante dunque fare prevenzione così il direttore della casa circondariale Stefano Liberatore e il direttore dell'ASL di Teramo Roberto Fagnano hanno siglato un piano comune operativo per il pronto intervento e la prevenzione del rischio autolessivo e suicidario dei detenuti come si fa in un carcere a prevenire il suicidio? questa è una domanda molto difficile come si fa? si fa attraverso strategie di comportamento partecipato attraverso una cooperazione tra tutti gli operatori penitenziari istituzionali paristituzionali che insieme con tutte le loro forze trovano gli accorgimenti necessari per cercare di contenere diciamo forse la parola giusta è contenere questo disagio che purtroppo esiste esisterà sempre uno dei punti salienti dell'accordo firmato tra ASL di Teramo e casa circondariale di Castronio è quello della creazione di uno staff multidisciplinare in grado di prendersi cura dei soggetti che manifestano intenti autolesionistici è l'ASL infatti che gestisce il presidio sanitario del carcere teramano attraverso una specifica unità operativa diretta da Massimo Forlini questo protocollo diciamo solo l'ultimo atto già nel passato c'è stata tanta attenzione ovviamente su questo argomento anche perché in carcere gli atti di autolesionismo che spesso sono non l'espressione di una malattia psichiatrica o di un disagio vero e proprio ma qualche volta anzi spesso direi sono legati alla ricerca dell'attenzione da parte diciamo così dell'ambiente ovviamente dove si trovano perché spesso il detenuto ovviamente si sente come devo dire abbandonato spesso lo è dalla famiglia eccetera quindi cerca una maggiore attenzione attraverso questi gesti adesso delle decisioni verranno prese coralmente attraverso questo staff multidisciplinare che si riunirà periodicamente in base all'osservazione che viene costantemente effettuata sui vari detenuti il consigliere comunale della lista Teodoro a Pescara Massimiliano Pignoli ha illustrato questa mattina in una conferenza stampa i motivi che lo hanno spinto a scrivere una lettera al prefetto e al presidente della tua la società che gestisce il trasporto pubblico abruzzese affinché si adottino i giusti provvedimenti dopo l'ultima aggressione avvenuta sabato scorso su uno degli autobus urbani consigliere Pignoli dopo gli ultimi episodi di violenza accaduti su alcuni mezzi pubblici della tua lei ha scritto una lettera al prefetto di Pescara chiedendo di prendere provvedimenti e soprattutto di tutelare maggiormente la sicurezza del personale che lavora sui pullman si ha detto bene lei non solo al prefetto ho scritto a questore ho scritto al comandante della polizia municipale ho scritto al sindaco ho scritto anche al presidente dalla commissione che dirige l'ordine di sicurezza che è il dottor Piernicola Teodoro affinché si individi un tavolo per eliminare questo problema ormai è un problema annoso persone anziane bambini i genitori sono intimoriti di prendere il pullman questo non è possibile in una città bella una città democratica una città splendente come la città di Pescara dobbiamo risolvere assolutamente questo problema individuare attraverso un bando attraverso una concertazione privata poi vedranno loro quale modus operandi è meglio nei limiti e nel rispetto della legge associazioni di volontariato che abbiano protezione civile che possano mettere degli uomini ovviamente gratuitamente a costo zero per la tua per l'amministrazione comunale e quant'altro che facciano da deterrente per questi soggetti che nonostante non pagano il biglietto causano anche danni e disagi alle altre persone che legittimamente stanno prendendo il pullman mi riferisco ovviamente alle tratte quelle più importanti mi aspetto nei prossimi giorni una risposta in tal senso e mi aspetto anche una soluzione immediata per questo problema che è diventato un problema non importante ma per la gente che frequenta quel pullman che frequentano quelle linee determinante il Movimento 5 Stelle di San Giovanni Tiatino con il consigliere comunale Mario Cutrupi questa mattina in conferenza stampa ha chiesto chiarezza sulla gestione dei campi da tennis della cittadella dello sport chiamando in causa anche il sindaco Marinucci consigliere Cutrupi oggi si parla del circolo tennis qui della cittadella dello sport di San Giovanni Tiatino voi nel comunicato avete scritto il circolo tennis di San Giovanni Tiatino è malato perché qual è il problema il circolo tennis è malato anche essendo una bellissima struttura fatta da 10 campi da tennis non riesce a mantenersi ed è malato della stessa malattia che fino ad agosto dell'anno scorso era malata la piscina comunale adesso la piscina comunale avendo tolto i privati e gestendola in prima persona come società pubblica la piscina comunale è rinsalita sta completamente bene vive da sola e non pesa sui soldi dei cittadini potremmo utilizzare lo stesso metodo per il circolo tennis dovremmo utilizzare lo stesso metodo è un obbligo verso il sindaco verso l'amministrazione che aumenta le tasse ai cittadini perché deve pagarne i servizi e non risolve problematiche così che andrebbero a incidere meno sulle tasse dei cittadini ma nel concreto qual è il problema dei campi da tennis qui della cittadella dello sport? l'associazione del tennis non pagava da un sacco di tempo neanche quelle piccole cifre che avrebbe dovuto pagare quindi come facevamo a fare la manutenzione? come facevano a fare la manutenzione? ed ecco che un circolo del genere decade invece un circolo del genere deve diventare un altro gioiello per tutti i cittadini di San Giovanni di Adino e per farlo è semplice abbiamo già la soluzione non c'è da inventarsi niente la stessa società può gestire sia la piscina che il tennis semplice e adesso siamo alla pagina dello sport iniziamo dalla serie A biglietti esauriti e grande attesa per la partita di domenica tra l'Adriatico Cornacchia tra il Pescara e il Milan sarà il momento del ritorno d'avversario all'Adriatico dell'ex bomber la padula mentre Zeman non è ancora sicuro di avere a disposizione Stendardo e Caprari il servizio di Andrea Costantini nonostante il Pescara abbia più di un piede e mezzo in serie B e alta in città l'attesa per il match di domenica prossima contro il Milan la prova si è avuta ieri quando la dotazione di biglietti è stata polverizzata in 5 ore tra acquisti online nelle ricevitorie e la società costretta a rimandare al mittente alcune delle richieste provenienti da club del centro-sud Italia dunque oltre 20.000 persone saranno presenti tra le altre cose al ritorno in riva all'Adriatico di mister 30 gol Gianluca alla padula l'uomo che nell'Abruzzo ha trovato la sua fortuna ma che a sua volta ha fatto le fortune di squadre abruzzesi prima da protagonista della promozione in B del Teramo poi negata dalla giustizia sportiva quindi da assoluto re dei bomber della cadetteria con le 30 prodezze che hanno portato il Delfino in Serie A passando per i playoff la padula all'Abruzzo è profondamente legato tanto da tornare appena può a salutare amici ed ex compagni di squadra ma domenica d'avversario cercherà il gol per aiutare il Milan nella rincorsa all'Europa sempre che Montella gliene dia l'opportunità cosa non accaduta all'andata quando uno dei migliori pescara di Massimo Oddo fu superato solo dalla punizione beffa di Buonaventura ma l'attaccante torinese rimase in panchina per tutti i 90 minuti con Deolofeo e Ocampo sesterni il ballottaggio sarà con Bacca Montella dovrà valutare se il colombiano di ritorno dalla nazionale sarà subito pronto per partire dal primo minuto altrimenti spazio alle grande ex in casa pescara invece Zeman attende le prossime sedute di allenamento per capire se Guglielmo Stendardo e Gianluca Caprari potranno essere della partita sarebbero recuperi importanti anche perché in difesa Coda e K.O e Campagnaro non è ancora al 100% e non ha mai giocato nell'anno nuovo in attacco Caprari resta l'attaccante di migliore caratura e per lui di proprietà dell'Inter questo rappresenterebbe un assaggio di derby sul loro impiego qualcosa in più si capirà dopo domani quando la squadra disputerà l'amichevole contro l'Avezzano al Dei Marsi sarà anche l'opportunità di capire se Zeman vorrà lanciare dal primo minuto Koulibaly o se invece riproporrà il centrocampo classico della sua gestione con Bruno Metodista e Verre e Memuschai di ritorno dalle nazionali quali Mezeali in Lega Pro anticipo sabato alle 18.30 per il Teramo reduce dal pareggio esterno contro il Mantua la sfida del Bonolis contro la Samb si preannuncia già calda dal punto di vista ambientale con oltre 500 sostenitori ospiti al seguito della squadra di Sanderra il servizio è di Jacopo Forcella San Benedettese e Ancona in quattro giorni diranno se il Teramo convalescente è davvero guarito tra sabato pomeriggio e mercoledì sera il diavolo avrà una doppia opportunità di rinsaldare una posizione disperata sì ma che dopo i quattro punti con Gubbio e Mantua sembra perlomeno essere più solida rispetto ad un paio di settimane fa perché il modulo sembra dare risposte confortanti le prestazioni dei singoli al di là dei limiti anche e allora quale migliore partita dal punto di vista soprattutto ambientale per cercare di ricucire il rapporto con una piazza delusa dai troppi bassi di una stagione da dimenticare la sfida con il rosso-blu di Sanderra in un Bonolis che si preannuncia caldo rappresenta uno stimolo per la classifica e un tentativo di riscatto dell'andata nella quale il Teramo come spesso gli è capitato rimase negli spogliatoi cadendo sotto i colpi del promesso sposo del Pescara Leonardo Mancuso Ugo Lotti spera di riavere quanto prima Mirco Petrella per avere la possibilità di cambiare pedine in corso d'opera l'esterno d'attacco dopo i problemi alla schiena a Mantua ha dovuto alzare bandiera bianca per colpa del Polpaccio la salvezza diretta è lontana ad oggi solamente 4 lunghezze anche se in teoria per via degli scontri diretti proprio col Mantua sarebbero 5 ed ecco perché occhio agli incastri soprattutto alla gara del Tuglio Saleri dove il Lumezzane sfida l'Ancona e la partita del Mancini tra Fano e Mantua sfide però che si giocheranno conoscendo già il risultato di Teramo San Benedetese con in campo gli ex Luli e Bernardo sul fronte Rosso Blu e con almeno 500 tifosi al seguito dall'altra parte una squadra in ripresa e con la voglia di evitare un fastidioso quanto molto pericoloso pesce d'aprile Lasciamo il calcio ora per occuparci di rugby coccente sconfitta per l'Aquila superata domenica scorsa al Fattori dai Toscani del Medicei per 29 a 33 il servizio di Niusha Rioci Nella sesta giornata di pool promozione l'Aquila Rugby Club viene sconfitta a 29 a 33 dai Toscani Medicei una sconfitta che brucia in quanto le due squadre sono sembrate decisamente equilibrate e in alcuni momenti i nero-verdi sono riusciti a sfoggiare un gioco brillante e aggressivo con le mette a cavallo del primo e del secondo tempo schiacciate dal numero 8 Carlo Cerasoli decretato proprio per la spettacolarità delle sue azioni Man of the Match gli ospiti e dal canto loro hanno potuto contare sulla precisione al piede dell'apertura gallese Dan Newton che è senza ombra di dubbio il giocatore di spicco della squadra toscana con 7 calci su 7 messi tra i pali i nero-verdi scesi in campo con la nuova maglia Vieni in Abruzzo la forza di una terra volta proprio a promuovere una regione duramente colpita dagli eventi catastrofici degli ultimi mesi si aggiudicano in ogni caso il bonus offensivo avendo schiacciato 4 mete una in più degli avversari e quello difensivo Carlo Cirasoli abbiamo visto un'ottima prestazione da parte tua due splendide mete a cavallo dei due tempi in cui vi siete trovati peraltro in superiorità numerica cosa è andato storto dal drop calciato da Newton quando voi eravate in vantaggio? Ma io credo che oggi la partita è stata condizionata dai piccoli errori che abbiamo fatto loro sono stati bravissimi ad approfittarne ecco qui il risultato che alla fine il gap sono i piccoli errori che abbiamo fatto quindi dobbiamo essere sicuramente più concentrati e andare avanti non ho niente da dire nel senso perché non siamo assolutamente inferiori a questa squadra e loro sono ripeto sono stati bravi ad approfittare alcuni errori nostri però siamo stati bravissimi tutti quanti abbiamo lottato e io credo sia una sconfitta immeritata però lo sport è anche questo però degli errori ci possono stare non c'è da recriminare né con l'arbitro spero che i nostri ragazzi prendano ancora più fiducia comunque dell'ottima prestazione il nostro telegiornale termina qui il prossimo appuntamento con il TG6 è alle ore 19 vi ricordo inoltre che i nostri servizi sono disponibili sulla pagina youtube di tv6 www.youtube.com slash tv6 e sul nostro sito internet www.tv6.it grazie per essere stati con noi vi auguro una buona giornata a www.tg6.it 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 Grazie a tutti.